Perché un ente morale come l'ente manifestazioni si tiene un socio moroso e non fa entrare un socio solvibile? Credo che questo bisognerebbe chiederlo al Consiglio di Amministrazione. Io posso soltanto confermarle la nostra solvibilità. Risponde così Carla Tiboni, presidente dell'Associazione Flaiano, alla domanda che sorge spontanea ai giornalisti presenti in conferenza stampa. Perché l'ente manifestazioni pescaresi consente la permanenza ad un socio moroso, mentre non risponde nemmeno a chi, invece, soldi alla mano, chiede di entrare da tre anni? Un silenzio istituzionale di cui la stessa Tiboni non riesce a farsi capace, soprattutto se consideriamo che l'ente manifestazioni pescaresi, partecipata del Comune di Pescara, è creditore nei confronti della suddetta associazione. E ha chiuso l'ultimo bilancio con un passivo di circa 36.000 euro, quindi dovrebbe avere tutto l'interesse ad aggiungere nuova linfa alla sua missione, che è e resta quella di promuovere la cultura sul territorio. L'Associazione Flaiano, nel ribadire la propria disponibilità ad entrare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'ente manifestazioni, aggiunge anche altri elementi la cui lettura è già di per sé eloquente. In sostanza, l'Associazione Amici dell'ente manifestazioni, entrata nelle MP nel 2017, ha saldato solo in minima parte le quote associative annuali, quelle che vanno dal 2017 appunto ad oggi. Saldi, peraltro, avvenuti, quando sono avvenuti, solo dopo aver ricevuto il bonifico relativo a contributi assegnati all'Associazione dallo stesso ente manifestazioni per la realizzazione di alcuni eventi culturali. Eppure, aggiunge Carla Tiboni, il mancato pagamento della quota avrebbe dovuto comportare la sospensione dell'Associazione Amici dell'ente già dal 2018. Chi è all'interno degli organi dell'ente manifestazione deve provvedere e si deve premurare di verificare che ci sia il versamento delle quote associative. Altrimenti il socio amoroso, non lo dico io, lo dice la legge, lo dice lo statuto dell'ente, deve essere sospeso e successivamente dichiarato decaduto. Credo che sappiate, che ormai sia un dato oggettivo, che il brand dei premi franiani è altissimo. Quindi noi volevamo, volevamo e vorremmo, perché non è che non ci tiriamo indietro, entrare nell'ente manifestazione pescaresi per poter lavorare ancora meglio per la cultura. Da due anni e mezzo abbiamo formulato questa richiesta, facendo tutti i passaggi richiesti, non ci è stata data nemmeno una risposta. Ma c'è un altro motivo che spinge l'Associazione Flaiano a voler entrare nell'ente manifestazione pescaresi. Edoardo Tibori ha contribuito alla nascita dell'ente manifestazione pescaresi, è stato presidente dell'Associazione Flaiano e dei premi internazionali Flaiano per 46 anni, ha contribuito alla costruzione, alla realizzazione del teatro Monumento d'Annunzio, quindi come vedete il legame non è forte, è fortissimo.